A Casalotti i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di via Casteggio dove un uomo di 38 anni ha picchiato i suoi genitori con i quali condivideva l'abitazione. Si tratta di due anziani di 71 e 67 anni, la madre inoltre è anche invalida e sottoposta ancora di più alla merce del figlio. La donna è stata portata all'ospedale Cristo Re ferita in stato di shock, il figlio nel picchiarla le ha anche spento una sigaretta sul labbro ustionandola. I militari hanno arrestato il 38enne e lo hanno portato nel carcere di Regina Celi.